Il Sudafrica è sconvolto da disordini, tumulti, saccheggi, sceni di inaudita violenza che interessano diverse città, in particolare delle province del Gautent, dove sorgono le città di Johannesburg e di Pretoria e del Quazur Natale. Negli scontri con le forze dell'ordine sono morte almeno 117 persone e altre 2.000 sono state arrestate. Negozi e centri commerciali sono stati devastati, date le fiamme, i saccheggi hanno partecipato anche i criminali, ma soprattutto tanta gente comune. Si calcolano danni economici per quasi 700 milioni di dollari. Le immagini delle sommosse, degli assalti sono impressionanti, davvero un brutto colpo alle immagini del Sudafrica, che lo ricordiamo, la locomotiva economica è una forza politica egemone per l'Africa per regionale. Il governo di Silvio Ramaphosa ha inviato 25.000 uomini dell'esercito a pattugliare le strade. In collegamento da Johannesburg abbiamo il giornalista freelance Alessandro Parodi, collaboratore della nostra rivista, residente da anni in Sudafrica. Buongiorno Alessandro, com'è la situazione in questo momento? Tanto grazie di questa opportunità. La situazione al momento sembra essersi un po' calmata, perlomeno a Johannesburg. Abbiamo vissuto dei giorni di tensioni molto intense, o perlomeno la percezione di quello che stava succedendo è stata molto preoccupante. In particolare le township della provincia del Hauteng, che comprende, come hai detto, Johannesburg e Pretoria, le township hanno iniziato a essere messe a ferro e fuoco proprio. La popolazione di queste township ha attaccato in particolare quelli che hanno ritenuto essere i centri del capitale straniero, il capitale bianco, per cui i centri commerciali e alcuni negozi che in particolare rappresentano, secondo la popolazione, il malgoverno, o appunto quello che viene definito come malgoverno dell'attuale presidente Silvio Ramaphosa. La situazione è molto sfaccettata e molto complicata perché quella che sembra, magari dall'esterno, può sembrare uno sfogo dovuto al Covid o dovuto in generale al malcontento della gente, pare in questi ultimi giorni che invece sia stato organizzato con molta attenzione nel dettaglio da forze politiche che ancora non sono molto evidente e molto chiare. La stampa locale adesso parla di una sporca dozzina, un gruppo di dodici politici e ex militari che sarebbero alle spalle di queste sommosse, che ovviamente approfittano di due o più elementi che hanno reso possibile la mobilitazione della popolazione, in particolare due anni di Covid, che hanno toccato sicuramente tutto il mondo e hanno toccato Sudafrica in particolare a livello socio-economico. Il Sudafrica è il paese in Africa che ha la più grande incidenza di casi di Covid, ma è anche il paese che ha sofferto di più a livello economico. Abbiamo attraversato vari livelli di lockdown e in questo momento siamo in quello che la politica locale chiama Level 4, che sarebbe l'equivalente italiano di una zona arancione o zona rossa, a seconda dei dettagli di questo lockdown. La popolazione è principalmente chiusa in casa, si può uscire di casa, ma con restrizioni molto dure. Queste situazioni sono esacerbite dal fatto che la situazione di partenza di Sudafrica è già molto difficile. Il Sudafrica è finito nello junk status, secondo le definizioni delle agenzie di rating come Moody e Standard & Poor's Fitch, due o tre anni fa, per cui siamo in una situazione economica molto difficile. La nostra moneta, il rent, è molto debole. Quindi un lockdown che in Europa sicuramente ha avuto un effetto negativo, in Sudafrica può e sta avendo un effetto devastante. In aggiunta alla situazione già molto difficile che la popolazione sta affrontando per via del lockdown e per via del covid, tra l'altro noi in questo momento siamo in pieno inverno, per cui i casi del covid sono molto alti. In aggiunta a questo ci sono stati degli aspetti politici e diciamo tribali molto importanti. Intanto l'anno scorso sono morti il re e la regina Zulu e la popolazione Zulu è la principale etnia, l'etnia più diffusa diciamo in Sudafrica. Questo ha creato delle tensioni a livello di successione, a livello di politica tribale. In aggiunta a questo c'è stata la notizia una o due settimane fa dell'arresto dell'ex presidente di Sudafrica Zuma, che è stata un po' la causa scatenante di questi tumulti che stiamo vivendo. Ma sicuramente non è l'unica causa, è stato il caso Sberdi diciamo. Per cui in seguito all'arresto di Zuma si sono verificati dei tumulti. Prima a Durban, nella provincia del Quasulo Natal, che è la provincia di Zuma, sono scoppiate le prime sommosse, le prime rivolte, che poi hanno portato a ulteriori rivolte, ulteriori sommosse nel Houten, in particolare appunto nelle township, con effetti devastanti. Anche perché un altro aspetto molto importante della cultura tribale in una metropoli come Johannesburg è la presenza di edifici che si chiamano ostelli, che hanno poco a che fare con la nostra idea europea di ostello. Sono degli edifici giganteschi che ospitano migliaia di persone, in particolare di etnia Zulu, in condizioni spesso, anzi sempre, veramente disagiate. E all'interno di questi ostelli vive un forte sentimento tribalistico e di una certa appartenenza politica che ricorda molto degli scontri che ci sono stati al termine della parte tra il partito che oggi è governo dell'ENC e un altro partito che ancora esiste ed è ancora molto forte ed è ancora molto caratterizzato dalla appartenenza all'etnia Zulu, che è quello di Inkata, anche noto come IFP, Inkata Freedom Body. Quindi queste due realtà della popolazione nera che vive nelle township, che è spesso anche una popolazione di stranieri che vengono da altrove in Africa, e invece la popolazione degli ostelli che è di astrazione, e in particolare una popolazione Zulu. Queste due realtà che a noi europei potrebbero sembrare molto simili in realtà si scontrano in una guerra che poi si esprime nelle sommose che stiamo vivendo adesso. Insomma l'esercito è in strada e sta monitorando la situazione, per cui insomma si sembra che l'emergenza sia rientrata ma ancora non si capisce bene a fondo quali siano le vere cause e a cosa porterà tutto questo. Ecco ricordiamo che le violenze sono scoppiate il 9 luglio in reazione proprio all'arresto del Presidente Jacopo Zuma, condannato dalla Corte Suprema a 15 mesi di reclusione per oltraggio e reticenza. C'è, come ricordava Alessandro Barodi, che c'è chi alimenta il sospetto che i disordini siano stati proprio innescati, quantomeno in una prima fase, anche da personalità politiche, personalità dello Stato vicino ancora a Zuma, ma a pare chiaro appunto dal quanto ascoltavamo che siano ben altre vere le ragioni della rabbia popolare. Ecco, come vive questa situazione alla minoranza bianca che ancora oggi, a 30 anni dalla fine della partai, controlla buona parte delle leve del potere economico del Sudafrica? La popolazione bianca del paese vive queste sommosse un po' come probabilmente le vivete voi dall'Europa, nel senso che le si vedono in televisione e c'è un fondamentale distacco dalla realtà di quello che sta succedendo a pochi passi dai quartieri più abbienti e dai quartieri più bianchi appunto. Un esempio eclatante è quello di due quartieri qua a Johannesburg, uno è il quartiere di Senton, che è anche noto come il chilometro quadrato più ricco d'Africa e a fianco a Senton esiste un quartiere che si chiama Alexandra, che invece è una township molto pericolosa e con dinamiche sociali molto difficili. Per cui la popolazione di Senton sente gli spari, vede gli elicotteri, ma non sa esattamente che cosa stia succedendo e c'è questa sensazione per la popolazione bianca di essere in prigione, di essere reclusi e di non sapere esattamente che cosa stia succedendo fuori casa. Questo anche in virtù del coprifuoco comunque che stiamo vivendo per lì del Covid, ma la percezione, come spesso per i bianchi sudafricani, è probabilmente amplificata rispetto a quello che davvero succede. Per cui i bianchi sudafricani e per esempio la comunità italiana che è molto presente, soprattutto a Johannesburg, questa popolazione ha una percezione di essere all'interno di una vera e propria guerra, di una guerra civile. In realtà sicuramente ci sono delle problematiche molto accentuate, ma che ai fatti probabilmente non andranno a toccare questi centri del potere. Appare chiaro dunque che la crisi sudafricana di questi giorni in realtà cela dei problemi di disuguaglianza molto stridenti in Sudafrica. Le ultime statistiche sulla disoccupazione dicono che oltre il 50% dei giovani sudafricani non ha un lavoro. Nei mesi del lockdown, dal 2020 sono andati persi 3 milioni di posti di lavoro. Il Sudafrica è il paese africano più colpito dalla pandemia, lo ricordiamo, ad oggi abbiamo 2 milioni e 200 mila casi di contagio, la metà di tutti quelli registrati nell'intero continente. Ma è evidente anche che la pandemia ha esacerbato problemi sociali non nuovi per il Sudafrica. Da almeno 5 anni la crescita economica si è inceppata, lo si ricordava da Johannesburg quanto ormai il debito estero di questo paese sia un fardello insostenibile. Soprattutto le disuguaglianze sono diventate sempre più profondi nel corso del tempo. Il divario tra ricchi e poveri, che ahimè quasi sempre coincide ancora oggi con il colore della pelle, si è allargato rispetto al 1994, che lo ricordo è l'anno delle prime elezioni del post-apartheid. Insomma il malcontento sociale sfociato più volte in proteste, scioperi, in disordini, talvolta in attacchi senofimi contro gli immigrati, i lavoratori provenienti da Mozambico, da Zambia, Zimbabwe, dalla Nigeria. La criminalità, la criminalità resta alta e fuori controllo in vaste parti del territorio e soprattutto la corruzione è una piaga che ha infettato da tempo i palazzi della politica. L'Africa National Congress, il glorioso movimento di lotta di liberazione dell'apartheid, diventato partito di governo inamovibile al potere dal 1994, malgrado una progressiva perdita di consensi popolari, sembra aver tradito l'aspettativo dei suoi sostenitori, accusato da più parti di non riuscire a tutelare le fasce più deboli della popolazione, appare in qualche modo incapace di raccogliere l'eredità politica di Nelson Mandela, che sognava un paese libero, coeso, in pace. Mentre oggi il Sudafrica è lacerato, è il paese più inico al mondo, ovvero secondo il coefficiente che misura la ridistribuzione della ricchezza, è il paese che occupa la prima posizione della classifica mondiale delle disuguaglianze. Noi seguiremo con attenzione l'evolvere della situazione in questo importante paese dell'Africa e ringraziamo il giornalista freelance Alessandro Parodi che, lo ricordiamo, era in collegamento con noi da Johannesburg. Grazie per l'attenzione. Grazie per l'attenzione.